Questa è una storia che arriva dal passato, dal buio di un appartamento durante la notte, una casa con le porte delle stanze chiuse a chiave. Lì dentro, 55 anni fa, è successo qualcosa di tremendo. E così come è successo, nel giro di pochi istanti, tutto è finito, avvolto nel silenzio, scandito solo dai passi di uno sconosciuto che riecheggiano nella notte. Sono Black Praline e racconto Storie Nere. Aprile 1968. Maria Voltan ha 42 anni. È nata il primo giugno del 1925 a Polverara, in provincia di Padova. Proviene da una famiglia numerosa, ha sei fratelli. Si è sposata con un uomo originario di Nuoro, Gesuino Pintore, dal quale ha avuto una figlia, Gabriella, che ha 22 anni ed è sposata con il professor Adriano Tassi, dal quale nel 1963 ha avuto una bambina. Maria e il marito si sono separati nel 1959. Lui è andato a vivere in Germania con la sua nuova famiglia e Maria non ha mai più avuto sue notizie. La donna ha vissuto a lungo in piazza Sacratia a Ferrara, fino alla separazione del marito, quando si è trasferita in un condominio di via Bagaro 62, al secondo piano di un palazzo che si trova sopra il bar Canasta, un locale molto frequentato. In questo stabile la donna ha acquistato due appartamenti. Sua figlia Gabriella, che vive a Masi Torello, un paesino in provincia di Ferrara, non vede la madre da cinque anni. Si erano viste l'ultima volta in occasione della nascita della bambina. I rapporti tra Gabriella e Maria si sono logorati col tempo, in quanto la giovane non ha mai accettato le tante relazioni intrecciate dalla madre, con uomini sempre diversi. La ragazza riceve ogni tanto delle notizie su sua madre da un avvocato, Mario Mele, che aveva seguito la donna nell'acquisto dei due appartamenti dello stabile. Maria Voltan, inoltre, si era rivolta a lui anche per il suo testamento. Sembra che prima avesse manifestato l'intenzione di lasciare i suoi averi in beneficenza all'ospedale, poi aveva deciso di lasciare la sola quota disponibile ad un uomo di nome Cadmo, un impiegato delle poste di Viale Cavour. L'uomo ha avuto una lunga relazione con Maria, che lui conosceva come Graziella, un rapporto durato più di dieci anni, poi l'aveva lasciata per un'altra donna con la quale si era sposato. Maria Voltan era rimasta molto male dopo la fine della loro relazione e aveva cercato di riavvicinarsi all'uomo telefonandogli sul posto di lavoro o aspettandolo fuori dall'ufficio postale in cui lavorava. Cadmo era abbastanza infastidito da questo atteggiamento della donna e cercava sempre di tagliare corto. Addirittura cercava di uscire dall'ufficio sempre in compagnia di qualche collega in modo da evitare di doversi fermare a parlare con lei. Nonostante la loro relazione fosse finita però, Cadmo aveva continuato ad aiutare economicamente la Voltan nell'acquisto della prima casa di via Bagaro, sottoscrivendo un impegno di inviarle ogni mese un assegno da 30.000 lire. Maria Voltan, che non aveva mai accettato di essere stata lasciata, lo aveva minacciato di rovinarlo, raccontando alla direzione dell'ufficio postale che tempo prima a casa sua l'uomo aveva bruciato un pacco di santini inviati per posta che avrebbe invece dovuto recapitare. Cadmo dunque, nonostante tentasse di tenerla lontana, forse proprio per paura di avere problemi sul posto di lavoro, se lei avesse raccontato alla direzione di quella sua leggerezza, continuava a tener fede al suo impegno di aiutarla economicamente e saltuariamente l'aveva frequentata fino al giugno del 1966. Maria è una donna molto avvenente, bella e giovanile, dimostra molto meno dei suoi 42 anni e solita subaffittare una stanza del suo appartamento a studenti universitari e lavoratori fuorisede. Alla fine di marzo del 1968, un ragazzo di 21 anni, originario di Reggio Calabria, Matteo Fiorentino, studente di giurisprudenza, prende accordi con Maria Voltan per poter affittare la stanza. Lei gli spiega che potrà trasferirsi soltanto se durante il periodo a ridosso della Pasqua una sua vicina di casa potrà occuparsi di riassettare la camera al suo posto, dal momento che lei si assenterà per una decina di giorni. Appurato che la vicina è disponibile ad occuparsi di riordinare la stanza durante la sua assenza, Maria Voltan dice allo studente che potrà trasferirsi nel suo appartamento a partire dal primo aprile, per la cifra di 18.000 lire al mese. All'arrivo del ragazzo, Maria Voltan gli spiega alcune regole fondamentali. Non dovrà farsi vedere qualora lei abbia visite. In quel caso il ragazzo dovrà rimanere chiuso nella sua stanza senza far rumore. Proprio mentre i due stanno parlando, la signora Voltan riceve una visita e chiede a Matteo di nascondersi in bagno. Maria Voltan è una donna bella, benestante, attaccata al denaro, che subaffitta quella stanza a sconosciuti, ma allo stesso tempo è molto attenta alle persone che fa entrare nella sua abitazione. Infatti ha fatto installare sulla porta uno spioncino. In base agli accordi, durante la sua permanenza in casa, l'inquilino potrà usare il telefono ma solo per ricevere chiamate. Infine Maria fa sapere a Matteo che quando esce è solita chiudere tutte le porte delle stanze a chiave, tranne la camera che affitta e il bagno. Maria Voltan chiacchierà amabilmente con lo studente calabrese e gli fa anche delle confidenze. Gli racconta del suo matrimonio finito con il marito che se n'è andato in Germania e anche del suo storico fidanzato Cadmo che l'aveva lasciata. Aggiunge che non ha più fiducia negli uomini. Chiacchierando, Maria rivela a Matteo che prima di lui in quella stanza aveva dormito un'altra persona, un professore di francese di nome Francesco, che insegnava in una scuola di Voghera. A detta di Maria Voltan, l'uomo aveva abitudini molto strane. Si lavava continuamente le mani con l'alcol. Prima di usare il water lo disinfettava e aveva anche chiesto di poter sistemare la scrivania di fronte ad uno specchio per potersi guardare. Pugliese, originario della provincia di Brindisi, il professore aveva soggiornato nella stanza in affitto a casa della signora Voltan dall'estate del 67 al febbraio del 1968. Maria Voltan racconta allo studente che il professore sembrava essere ossessionato da racconti sanguinolenti e aveva anche tentato degli approcci con lei, che infine lo aveva sfrattato. Sabato 6 aprile, intorno alle 17 e 30, Matteo rientra nell'appartamento di Via Bagaro dopo essere stato in un bar con la sua fidanzata e un amico a vedere la partita Bulgaria Italia. Verso le 19 e 30 il ragazzo bussa alla porta della cucina, Maria Voltan si trova lì dentro e la porta è chiusa a chiave. Maria si sta preparando la cena, sta cuocendo una bistecca e gli spiega che ha chiuso la porta perché non vuole che l'odore di cibo invada le altre stanze. Il ragazzo l'avvisa del fatto che il giorno dopo riceverà due telefonate. Nel frattempo la donna si accinge a sedersi a tavola per mangiare e dunque Matteo toglie il disturbo, la saluta e se ne va. Esce e va a cenare in una trattoria, poi insieme ad un amico si reca al caffè Gambrinus dove rimangono fino alle 21 e 45. Dopo aver accompagnato a casa l'amico, Matteo va a trovare la fidanzata al cinema di Baura, una frazione di Ferrara gestito dalla famiglia della ragazza. Tra le 23 e 45 e la mezzanotte rientra nell'appartamento di Veabagaro e si accorge che la porta d'ingresso non è stata chiusa a chiave come al solito. Il corridoio è buio ma dal vetro della porta accostata del salotto filtra la luce. Matteo sente delle voci e capisce che in salotto la signora Voltan sta chiacchierando con un ospite, un uomo che ogni tanto tossisce, si schiarisce la voce e parla in modo pacato. Matteo entra in camera sua e si mette a letto. Poco dopo essersi addormentato però intorno all'una e mezza si sveglia di soprassalto a causa di un rumore di qualcosa che va in frantumi. Sente una voce di donna che gli sembra quella della signora Voltan che dice due volte sì in maniera concitata come se fosse spaventata. Poi aggiunge una frase che gela il sangue. Aiuto mi ammazza. Matteo è solo nel buio della sua stanza e per un attimo pensa che i rumori e la voce che ha sentito potrebbero in realtà provenire dal bar sotto casa che è molto frequentato e rumoroso. È una questione di attimi. Il ragazzo sente anche dei sigliozzi, poi un silenzio sinistro. Rimane seduto sul letto, immobile. Poi sente altri rumori. C'è qualcuno che cammina lungo il corridoio. Non sono passi veloci. Qualcuno è appena entrato nel bagno e sta facendo scorrere l'acqua. Dopodiché la persona che è entrata nel bagno esce e si verso un'altra stanza. A questo punto Matteo sente il rumore delle tapparelle del salotto che vengono alzate lentamente. Il ragazzo si alza, apre la porta della sua camera per andare in bagno. Ma è una porta che fa rumore quando la si apre. Dunque chiunque ci sia in salotto sa di non essere solo in casa. Nel recarsi in bagno nota la camera da letto della signora Voltan con la luce accesa. In salotto invece la luce è spenta. Un appartamento avvolto nel buio della notte. Il sonno interrotto da strani rumori e da una voce femminile che pronuncia una frase inquietante. Poi più nulla se non la certezza di trovarsi in un appartamento dove c'è uno sconosciuto che silenzioso cammina nel buio. Matteo rientra nella sua stanza e con il cuore in gola continua a prestare attenzione a quello che accade oltre quella porta. Qualcuno ora sta abbassando le tapparelle che aveva alzato poco prima. Poi si avvicina alla porta d'ingresso e se ne va dopo aver chiuso con quattro mandate. Ora in quell'appartamento buio di via Bagaro 62 al secondo piano c'è un silenzio irreale. Un silenzio che fa paura. È notte. Il ragazzo sente l'orologio battere le due e dunque tutto si è svolto in circa un quarto d'ora. Poco dopo vede una luce spegnersi, probabilmente quella della camera da letto della signora, e sente chiudere una porta. Matteo immagina che la signora Voltan sia andata a dormire, dunque smette di immaginare che cosa possa essere accaduto e cerca di addormentarsi. Indomani mattina, è domenica, e alle 9.30 il telefono di casa Voltan squilla. Matteo aspetta due telefonate. Il giorno prima lo aveva detto alla signora, è lei che risponde al telefono, e se qualcuno desidera parlare con lui glielo passa. Ma il telefono quella mattina continua a squillare. Sembra che la signora Maria non sia in casa. Così è Matteo a rispondere direttamente. Al telefono c'è un suo amico. Poco dopo il ragazzo riceve un'altra telefonata e la sua fidanzata. Mentre parla al telefono sente bussare alla porta. Matteo saluta la sua fidanzata, deve aprire. È l'idraulico. Era stato chiamato dalla signora Voltan il pomeriggio del giorno prima per un guasto. Matteo si scusa e spiega all'idraulico che la signora non c'è. Il ragazzo lascia un biglietto appoggiato alla maniglia della porta della cucina col quale avvisa Maria Voltan dell'arrivo dell'idraulico che nel frattempo se n'è andato dal momento che la padrona di casa non c'è. A quel punto il telefono di casa Voltan squilla di nuovo. Questa volta è il padre del ragazzo che chiama dalla Calabria. Matteo pensa a quello che ha sentito la notte precedente e a quella frase pronunciata dalla signora che lo ha molto turbato. Aiuto, mi ammazza. Così gli era sembrato di aver sentito. Lo studente decide di andare in questura. Un suo zio è commissario di polizia a Genova e gli ha detto di conoscere un collega a Ferrara, il dottor Restivo. Dunque Matteo va in questura e chiede di poter parlare con Restivo al quale racconta di quella frase e di quei singhiozzi che aveva sentito provenire dal salotto. Il ragazzo è preoccupato, non sa se può considerarsi al sicuro in quella casa, teme che le frequentazioni della signora Voltan possano essere pericolose e domanda al dottor Restivo come debba comportarsi, ma viene tranquillizzato e congedato e il vicequestore gli dice di non preoccuparsi. Quella domenica a pranzo, Matteo come sempre va a mangiare in una trattoria, poi intorno alle tredici e trenta torna a casa per riposare un po'. Non appena entra nell'appartamento di Maria Voltan, nota il bigliettino che aveva scritto alla signora per avvisarla della visita dell'idraulico. Quel foglietto è ancora dove lo ha lasciato, dunque la signora non è ancora rientrata. Matteo va in camera sua per riposare, si sdraia a letto quando squilla il telefono. Va a rispondere, ma dall'altro capo qualcuno riattacca. Un'altra telefonata sopraggiunge poco dopo. La voce di un uomo gli dice scusi ho sbagliato. Dopo pochi minuti il telefono squilla nuovamente. È un uomo, ma non è la stessa voce che ha chiamato poco prima. Il ragazzo riferisce che la signora Voltanna non è in casa. Sono le quattro del pomeriggio. Matteo esce per andare al Cinema Lux a vedere un film con Ursula Andres e Virna Lisi. Alle ventidue lo studente rientra e trova il biglietto che aveva scritto ancora al suo posto dove lo aveva lasciato sulla maniglia della porta della cucina. Il suo letto è disfatto e le porte delle altre stanze sono chiuse a chiave, come accadeva quando Maria Voltanna usciva. Matteo nota che attraverso il vetro smerigliato di una porta è possibile intravedere una sagoma rossa. Ci pensa un po', poi decide di guardare attraverso la fessura tra la porta e il pavimento. Ed è in quel momento che il ragazzo viene pervaso da una sensazione inquietante. Lì sul pavimento del salotto, attraverso quella fessura, gli sembra di vedere qualcosa. Gli sembra che a terra ci siano dei capelli. Da tre giorni i vicini di casa non vedono Maria. L'hanno vista l'ultima volta il sabato mentre saliva le scale e avevano scambiato con lei qualche parola. Sono le 20 di lunedì 8 aprile, quando il ragazzo decide di tornare in questura. E qui racconta che gli è sembrato di vedere i capelli della sua padrona di casa sul pavimento della cucina. E dal momento che non la vede da due giorni, teme che le sia successo qualcosa. Gli uomini della squadra mobile entrano nell'appartamento insieme al commissario Gaetano Orlando e dopo aver rimosso il vetro della porta trovano Maria Voltanna sul pavimento in posizione prona. La donna è senza scarpe, indossa un maglione bianco e una gonna rossa raggomitolata fino al dorso. Un paio di calze color carne con le giarrettiere. Gli slip sono abbassati. La scena è spaventosa, c'è molto sangue. Maria Voltanna è stata colpita con un'arma da punta e taglio. Molte delle ferite si trovano sulla schiena. Tre colpi l'hanno raggiunta alla testa, altri tre sul collo, 16 sul dorso, due sotto l'ascella destra e due sui glutei. 26 colpi in tutto inferti con estrema violenza. Per il medico legale la morte risale a 40-48 ore prima. La donna è stata uccisa tra le 21 di sabato sera e le 5 di domenica mattina. L'appartamento sembra perfettamente in ordine. La borsa della signora si trova su una cassettiera. C'è disordine soltanto nella stanza del ragazzo dove c'è il letto sfatto e oggetti personali dello studente sparsi qua e là. Gli agenti notano un particolare importante. Sul davanzale della finestra del salotto c'è un manganello di 25 centimetri, ricoperto di cuoio marrone, con all'estremità una palla di piombo. Potrebbe essere stato usato per stordire la vittima. Il procuratore della Repubblica di Ferrara, il dottor Persico, dispone il sequestro di diverse lettere trovate in casa della Voltanna. Vengono interrogate le prime 20 persone. Un uomo di nome Renzo, che aveva avuto una breve relazione con Maria Voltanna, conosciuta tre anni prima, racconta che la sera del 6 aprile, intorno alle 20 e 45, aveva provato a suonare il campanello della donna. Voleva andare a trovarla per portarle ai confetti del suo matrimonio, ma Maria non gli aveva risposto. Quindi lui era entrato al bar Canasta e qui aveva incontrato un suo amico. I due erano poi andati in un altro bar a Ponte Lago Scuro. Dopodiché Renzo era tornato al bar Canasta intorno alle 23 e aveva provato a telefonare a Maria senza ricevere una risposta. Così se n'era andato a casa. Un'altra testimonianza molto importante è quella di una donna di nome Ulderica, che vive col marito all'ultimo piano del palazzo di Via Bagaro. Alle 4 del pomeriggio del 6 aprile si trovava alla finestra e aveva visto uscire dal portone Maria insieme a un uomo sui 60 anni, robusto, con un cappello grigio. I due erano saliti a bordo di una macchina bianca, una 500. La testimone ricorda com'era vestita Maria Voltanna. Indossava un paio di scarpe rosse, aveva una borsetta a tracolla blu e un taglier bianco. La vicina aggiunge che quella notte non aveva udito rumori particolari arrivare dall'appartamento della Voltanna. Matteo racconta agli inquirenti che lo interrogano a lungo di quelle confidenze fattegli dalla vittima, in particolare riguardo lo strano inquilino che la Voltanna aveva deciso di sfrattare, quel professore. Dalle indagini emerge che la donna avesse parlato del professore non solo a Matteo, ma anche ad altre persone. Gli inquirenti si mettono alla ricerca di questo strano inquilino che parlava spesso di fatti di sangue e di coltelli. Un uomo di nome Aldo, amico di Maria Voltanna, racconta che la donna gli avesse parlato anche di approcci tentati dal professore nei suoi confronti. Lei lo aveva respinto e pare che di fronte al rifiuto della Voltanna, il professore le avesse detto che qualora un giorno lei lo avesse respinto di nuovo, sarebbe stato capace anche di pungerla. Avevo usato proprio quel termine, mimando il gesto di un pugno che stringe un coltello. Era stato allora che la donna lo aveva sfrattato e anche ad un altro uomo che frequentava, un tale Placido, il quale conosceva la Voltanna come Graziella, la donna aveva parlato del comportamento di quel suo inquilino, definendosi preoccupata. Lo strano professore viene trovato subito a un alibi di ferro. Viene interrogato per la prima volta il giorno stesso del ritrovamento del cadavere. Racconta che i suoi rapporti con la signora Voltanna erano sempre stati molto cordiali e che si fermavano spesso a chiacchierare a lungo. Lei addirittura gli aveva raccontato della sua vita sentimentale. Gli aveva parlato di Cadmo, che l'aveva lasciata per un'altra, e dell'ex marito. Il professore aggiunge anche un particolare molto importante. Maria Voltanna era solita pubblicare degli annunci a pagamento su un giornale sulla rubrica Appello dei separati. Attraverso questi annunci aveva conosciuto diversi uomini e in casa, in effetti, la polizia ha sequestrato diverse lettere, tutte inviate alla donna da uomini che la contattavano dopo aver letto i suoi annunci. Il professore non nasconde il fatto di aver corteggiato la Voltanna, racconta di averle fatto diversi complimenti. L'uomo inoltre ridimensiona molto le affermazioni fatte dalla Voltanna a proposito della sua passione per il sangue. Dopo aver traslocato presso un'altra stanza in affitto a casa di una signora di nome Dolores in piazza Castellina, il professore aveva continuato a frequentare il condominio di via Bagaro, in quanto portava la biancheria a lavare e stirare da una vicina di casa di Maria Voltanna, la signora Melchiade. L'ultima volta era stato lì proprio il sabato, prima del delitto. L'uomo ha raccontato che dopo aver portato la biancheria alla signora era andato a mangiare alla trattoria Provvidenza di Corso d'Este e alle 21 e 30 era tornato a casa. Aveva lasciato l'auto in garage e tre quarti d'ora dopo era sceso con l'intenzione di telefonare alla sua fidanzata. Poi però aveva cambiato idea ed era rientrato accordandosi con la signora Dolores riguardo il fatto che l'indomani mattina avrebbe fatto il bagno intorno alle 9 e 30. La signora conferma e aggiunge anche che il professore era uscito per dieci minuti per telefonare alla sua fidanzata ed era rientrato intorno alle 22 e 22 e 15 per poi andare a dormire. Lei e un suo parente si erano intrattenuti in cucina a chiacchierare, poi erano andati a letto e non le risulta che il professore fino a quel momento, cioè intorno alle 23, sia uscito nuovamente. Certo, l'appartamento è grande, non può escludere che l'uomo sia potuto uscire quando lei stava già dormendo. Il 9 aprile si svolge l'esame autoptico sul corpo martoriato della Voltan. Il marito dal quale era separata da nove anni non è stato ancora rintracciato perché vive all'estero. Gesuino pintore vive in Germania con la sua seconda moglie, con la quale si è sposato il 7 agosto del 1968, dopo la morte di Maria. L'uomo, dopo aver lasciato la Voltanna, ha vissuto in Sardegna e ha avuto due figli, poi si è trasferito in Germania con la famiglia. Venerdì 5 aprile, secondo le indagini, l'uomo è uscito dal posto di lavoro intorno alle 17 e 15. Si è ripresentato alle 7 di lunedì 8 aprile. Durante quei giorni non ha mai lasciato la Germania, c'è un particolare importante. Nell'appartamento del delitto manca la chiave della porta della cucina. L'assassino ha chiuso la porta a chiave e se n'è andato. Forse sapeva della presenza di un inquilino e ha cercato di ritardare la scoperta del cadavere. L'arma del delitto potrebbe essere un cacciavite, un punteruolo o una forbice, ma non è mai stata trovata. Dall'appartamento non manca nulla. In un cassetto chiuso a chiave ci sono 135 mila lire in tagli da 10 e da 1000, oltre varie monete da 500 lire. Vengono trovati quattro assegni da 30 mila lire intestati alla Voltan. È un libretto di risparmio con un accredito di 1.164.000 lire, oltre ad una scrittura privata tra la donna e Cadmo. L'ipotesi più accreditata è quella di un tentativo di approccio finito male. In seguito ad un rifiuto l'assassino potrebbe aver colpito la donna alla testa e poi avrebbe deciso di finirla a colpi di arma da taglio. La seconda ipotesi è che Maria Voltan potrebbe essere stata uccisa per una vendetta. In casa non sono stati rinvenuti segni di colluttazione. L'unica stranezza riguarda le pantofole della donna. Una è stata trovata in camera da letto, l'altra si trova vicino al cadavere. L'11 aprile si svolge il funerale che viene filmato dalla polizia. Il 19 aprile emerge un'indiscrezione. Secondo gli inquirenti qualcuno avrebbe notato davanti al palazzo di via Bagaro la notte del delitto intorno all'1.30 un Alfa Romeo arancione targata Milano. Il proprietario dell'auto si trovava in piedi accanto alla vettura. Si tratterebbe di un uomo alto, sui 35 anni, robusto, con i baffi e vestito in modo elegante. A raccontare questo particolare è un testimone che scambiando il misterioso uomo coi baffi per un suo amico gli si era avvicinato per poi allontanarsi dopo aver capito di aver sbagliato persona. Il testimone aveva letto la notizia dell'omicidio sui giornali a distanza di tre giorni dal rinvenimento del cadavere e subito aveva preferito non raccontare nulla agli inquirenti. Poi però aveva deciso di parlare. Le indagini si estendono dunque anche a Milano. Il proprietario dell'auto viene individuato, ma l'uomo risulta totalmente estraneo ai fatti. Il 9 maggio del 1968, il Corriere della Sera pubblica un articolo in cui si dà per certo che l'assassino sia stato identificato. Secondo il Quotidiano, il magistrato firmerà a breve un mandato di cattura. Sembra sia stata individuata anche l'arma usata per stordire la vittima. Sarebbe quel manganello che secondo gli inquirenti è stato confezionato dall'assassino. Misura, 25 centimetri. I giornali lo descrivono come una piccola clava in pelle, con anima di tendine di bue e la testa in piombo. L'arma da taglio con cui sono stati inferti i colpi mortali, invece, ancora non si trova. Quel manganello viene mostrato a tutte le persone che vengono interrogate. Vengono convocati i vecchi inquilini della Voltan, tra i quali ci sono degli studenti di medicina e di giurisprudenza, quando c'è un colpo di scena. Uno di loro riconosce il manganello. È suo. Racconta di aver lamentato il furto di questo oggetto che portava con sé in auto quando viaggiava e aveva iniziato a sospettare di un amico e della sua fidanzata. Questo ragazzo che vive a Sanremo si presenta in questura spontaneamente e dice che quel manganello l'aveva costruito circa otto anni prima e lo teneva con lui come strumento di difesa personale. Dopo la sua permanenza a casa della signora Voltanna non l'aveva più trovato. Il ragazzo aveva lasciato l'appartamento nel 67 per ritornarsene in Liguria. Le perizie hanno appurato che il manganello non è stato usato per colpire la donna. La cosa strana è che l'unica persona che può averlo sottratto al ragazzo a questo punto è proprio Maria Voltanna. C'è stretto riservo sulle indagini e il fascicolo è affidato al procuratore della Repubblica di Ferrara, il dottor Scolozzi. Emerge un altro particolare molto strano. Il giorno successivo al delitto, dal terrazzo del palazzo di via Bagaro, sono sparite tre camice che erano state messe ad asciugare il giorno prima. Gli inquirenti hanno cercato l'arma del delitto anche sui tetti delle case vicine, pensando che l'assassino se ne potesse essere sbarazzato lanciandolo dalla finestra. Al di fuori di Matteo Fiorentino, che è stato rilasciato dopo essere stato interrogato a lungo, nessuno nel condominio di via Bagaro ha sentito rumori sospetti la notte del delitto, né grida né tonfi, né rumori di oggetti che cadono in frantumi. Non ha sentito nulla nemmeno una vicina che all'ora in cui Matteo dice di aver sentito rumori e voci, oltre a quel grido soffocato, si trovava sveglia nel suo appartamento. La donna dichiara di non aver sentito neppure scorrere l'acqua, cosa che di notte poteva capitare. Viene fatto anche un esperimento giudiziario. Vengono riprodotti i rumori che lo studente dice di aver sentito quella notte, compreso il rumore di qualcosa che va in frantumi. La vicina di casa durante l'esperimento. Quei rumori li sente. Avrebbe dovuto sentirli anche la notte dell'omicidio, invece continua a ribadire che quella notte era sveglia, ma non ha sentito assolutamente nulla. Matteo Fiorentino a questo punto dice al procuratore Aldo Scolozzi, sta a lei vagliare se la verità la dico io o la dice la signora del piano di sotto. La signora racconta di aver sentito tra le 6 e le 6 e 35 della mattina successiva, la domenica, un rumore di passi. È sicura che qualcuno abbia camminato con delle ciabatte in casa della Voltan fino alle 7, 7 e un quarto di quella mattina. Io non ero assolutamente perché dormivo, dice lo studente. Maria Voltan, secondo la prima perizia, sarebbe morta presumibilmente 6 ore dopo aver consumato l'ultimo pasto. Macchie di sangue sono state rinvenute sul battiscopa dello stipite della porta del salotto. Macchie rosate sono state trovate sul bidet e altre nell'angolo in basso a destra della porta d'ingresso della cucina. Qui sono stati rinvenuti schizzi di sangue sulle piastrelle, sopra e attorno al rubinetto, sul coperchio della cucina a gas e sul lavandino. Una macchia di sangue somigliante ad una ditata è stata trovata sul lenzuolo superiore del letto di Matteo Fiorentino. Nel vater e nel bidet sono stati rinvenuti dei peli. Maria Voltan deve essere stata colpita dall'arma da taglio mentre si trovava a terra dopo essere caduta e anche quando in piedi cercava di scappare. Il sangue della vittima appartiene al gruppo 0 RH positivo, quello di Matteo Fiorentino appartiene al gruppo B. La macchia di sangue sul lenzuolo del letto dello studente appartiene al gruppo sanguigno 0. Il professor Labò, che nel 1971 effettua una nuova perizia medico-legale, sostiene che non sia possibile stabilire con certezza il tempo trascorso tra l'ingestione dell'ultimo pasto e la morte. Durante un nuovo interrogatorio, Matteo Fiorentino racconta al giudice istruttore Ricciotti ciò che aveva già detto in precedenza, ma aggiunge che a proposito della macchia di sangue rinvenuta sul lenzuolo, non aveva visto quella macchia somigliante a una ditata e in quanto abituato a infilarsi nel letto con le lenzuola già rimboccate sotto il materasso. Difficilmente tocco il lenzuolo nella parte che non è prossima alla testa. Non avevo ferite e neppure escoriazioni. Il sangue non è il mio e non posso neppure affermare di aver toccato macchie di sangue perché non ricordo di averne viste nei giorni in cui rimasi solo nella casa dove c'era il cadavere. Secondo il ragazzo, qualcuno degli inquirenti entrati in casa in quei giorni potrebbe aver inavvertitamente toccato il lenzuolo con le mani sporche. Il 7 aprile del 1972 il giudice istruttore Ricciotti dichiara chiuse le indagini. Chi ha ucciso barbaramente Maria Voltan rimane ignoto agli inquirenti e ad oggi, a distanza di 55 anni, questo delitto rimane impunito. Eppure quella notte, in quell'appartamento, una persona ha compiuto un delitto e poi ha continuato ad aggirarsi lungo quelle stanze e quel corridoio al buio e in silenzio, andandosene poi indisturbato. Grazie. 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 Grazie.